Buongiorno e benvenuti alla rassegna sportiva andiamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali cosa si dice della nostra Udinese ovviamente anche all'interno con gli articoli di approfondimento sullo sport sia locale che nazionale andiamo subito sul messaggero Veneto per parlare della partita di domenica tra Udinese e Juventus e dunque ci portiamo immediatamente sulle pagine di sport c'è intanto il richiamo in alto sopra la testata in cui il messaggero scrive Udinese Juve del neri recupera Berami andiamo ad approfondire all'interno questa notizia come avete visto ieri dal nostro pomeriggio calcio in diretta per mostrarvi le immagini della partitella tra la prima squadra e la primavera Berami ieri è stato impiegato dunque per lui si profila un possibile utilizzo anche contro la Juventus Berami che ha dovuto saltare la partita di Firenze per l'infortunio che gli era capitato nella gara precedente un Berami che dunque ha recuperato in tempo abbastanza breve rispetto a quello che si poteva ipotizzare e sarà a disposizione del mister Berami c'è l'Udinese si carica questo è il titolo di apertura della prima pagina delle pagine sportive del messaggero lo svizzero impiegato nel galoppo con la primavera con la Juventus sarà a disposizione di spalla qui vediamo chi dirigerà l'incontro sarà Doveri Pozzo nel 2012 disse è uno pericoloso qui andiamo a leggere invece il quadro completo delle partite della giornata di Serie A che inizierà come sempre il sabato alle 18 ci sarà l'anticipo tra Sampdoria e Crotone mentre in serata il big match tra Napoli ed Inter alle 20 e 45 sono le prime due in classifica divisera due punti il Napoli è in testa a punteggio pieno l'Inter due punti dietro per quanto riguarda il programma di domenica il lancio match sarà il derby di Verona tra Chievo Verona e Elas Verona alle 15 giocheranno Atalanta Bologna Benevento Fiorentina Milan Genoa Spal Sassuolo Torino Roma e ci sarà alle 18 invece il posticipo il primo dei due posticipi tra Udinese e Juventus e dunque alle 20 e 45 si chiuderebbe la giornata con Lazio Cagliari ecco la classifica come vi dicevo Napoli e Inter divise da soli due punti si affrontano domani sera una sfida che vale il primato l'Udinese invece dall'altra parte a destra una classifica molto corta perché al di là del Benevento che ancora ha zero punti le altre sono tutte vicine dai 5 di Genoa Spal e Sassuola ai 6 di Verona Cagliari Crotone Udinese poi appena tre punti più sull'Atalanta 4 la Fiorentina dunque una classifica che può essere ancora rimediata in tempi relativamente brevi per quanto riguarda i bianconeri bisogna dare continuità a risultati positivi quella continuità che finora è purtroppo mancata vediamo anche alcuni passaggi sempre sulla situazione tecnico-tattica per Del Neri in vista della gara di domenica qui c'è anche una foto di Maxi Lopez ma intanto vediamo andiamo con ordine vediamo prima qui a sinistra cosa scrive il messaggero ancora problemi sulla destra con Larsen che lavora soltanto in palestra Widmer ha svolto un lavoro differenziato le quotazioni di Adnan crescono per un possibile impiego dal primo minuto sulla destra non ha fatto male contro la Fiorentina Adnan nel secondo tempo quando Del Neri lo ha impiegato appunto sulla fascia destra per lui potrebbe essere riproposto questo tipo di posizione in campo doppietta di Maxi nel 6-1 finale contro la primavera del test al Bruseschi che ha visto a segno anche Baic, De Paul sul rigore, Pezzella e Lasagna che ha aperto le marcature dunque segnali confortanti ieri segnali che vanno però tradotti in concreto nella partita di domenica facciamo vedere chi sono i veri bianconeri l'appello del presidente dell'AUC che chiede collaborazione alla Curva Nord per una coreografia che intanto possa iniziare a caricare i nostri e mettere un tantino in soggezione la Juventus anche se è chiaro che si ha a che fare con una squadra che è abituata a questo tipo di situazioni però il pubblico cercherà in tutti i modi di spingere la squadra ad una prestazione super perché serve una prestazione super per far risultato contro la Juve. Intervista all'interno a Pepe un doppio ex non credete a una Juve in crisi intanto su vediamo una foto simbolo di quella che può essere la crisi della Juventus con Higuain e Di Bala in una posa non proprio di felicità la Juventus non ha ottenuto ottimi risultati nell'ultima partita pareggiata a Bergamo contro l'Atalanta dopo essere stata in vantaggio sul campo appunto dei neroazzurri poi ha perso con la Lazio in casa sbagliando un rigore a tempo scaduto con Di Bala che ne aveva sbagliato uno anche a Bergamo. Il rapporto con Del Neri parla Pepe gran persona a Torino al problema fumo noi giocatori l'esperienza di Del Neri non fu felicissima alla Juventus è una stagione 2010-2011 e Pepe la ricorda così. Poi parla di Higuain e Di Bala mettere in discussione quei due non si può proprio in effetti insomma per quello che comunque hanno fatto pur in un inizio di stagione questa volta non eccezionale per Higuain per Di Bala sicuramente eccezionale perché già in doppia cifra per quanto riguarda i gol segnati ha sbagliato due calci di rigore dunque non si può certo pensare che i problemi della Juve partano da Higuain e da Di Bala. Andiamo qui a vedere cosa è successo in Europa League i risultati delle tre squadre italiane è andata bene perché il come vedete la Lazio ha vinto contro il Nizza 3 a 1 iniziale gol di Balotelli poi il il sorpasso con le reti e di Milinkovic Savic che ne ha fatti due al ventesimo e al quarantaquattresimo e l'altro gol di Caicedo al quinto minuto che è valso il pareggio subito dopo il gol di Balotelli al quarto Balotelli un minuto dopo Caicedo che è l'attaccante di scorta di Simone Inzaghi per far riposare immobile che infatti è entrato soltanto al quindicesimo della ripresa. 0-0 tra i fischi noi abbiamo detto che è andata bene perché sono tutti risultati positivi non nessuna delle tre italiane ha perso però è chiaro che il Milan aveva bisogno di vincere soprattutto per il morale è finita 0-0 contro la EK di Atene ed è finita tra i fischi e con un Montilla sempre più in difficoltà è stato annullato un gol a Cutrone ma era in fuorigioco quindi giusto annullare la rete al milanista. Atalanta batte Apollon 3 a 1 e questa invece è una partita che ha visto l'Atalanta conquistare un successo importante con le detti di Ilicic, Schembri, Petagna e Freuler quindi un Atalanta che è prima passata in vantaggio si è fatta raggiungere dunque nel secondo tempo in due minuti 19 e 21 ha piazzato il colpo del 3 a 1 molto importante perché avvicina il club di la squadra di Gaspedini alla qualificazione al turno successivo mentre per quanto riguarda il Milan nella situazione complicata Atalanta e Lazio vedono la qualificazione dobbiamo anche dire che sono stati sono state brave queste squadre avvicinarsi alla qualificazione senza grossi intoppi anche se come avete visto per l'Atalanta in campionato forse una ripercussione dagli impegni di Coppa si è avuta perché l'Atalanta è ferma a quota 9 appena ed è ancora nella parte destra della classifica nonostante comunque nello stesso campionato abbia offerto delle buone prestazioni qui vediamo una notizia che riguarda invece un possibile una possibile operazione di mercato per quanto riguarda il mese di gennaio Milik che è stato operato per il nuovo infortunio che gli è capitato questa volta all'altro ginocchio al ginocchio destro dopo essere stato operato al sinistro per la rottura del legamento crociato e potrebbe rientrare a disposizione di Sarri entro la fine dell'anno ma l'idea sarebbe quello di sarebbe quella di prestarlo e tra le squadre pronte ad accoglierlo ci sarebbe secondo radiomercato anche l'udinese oltre al Chievo Verona per dare la possibilità a questo ragazzo di giocare con continuità recuperare e mettersi al pari degli altri poi chissà staremo a vedere cosa succederà nel mese di gennaio quando si riapriranno le contrattazioni siamo pronti adesso per andare a verificare la situazione del traffico e darvi notizie anche di servizio in tal senso con il vice ispettore Sandro Favotto collegato con noi dalla centrale operativa della polizia locale buongiorno buongiorno a voi in questo inizio di mattinata di venerdì il traffico si presenta scorrevole sull'intera rete viaria cittadina non si registrano al momento particolari situazioni di disagio riguardo la circolazione dei veicoli possibili disagi potremmo averli durante l'arco della giornata sul viale della vittoria per lavori segnaliamo altresì lavori sulla via Micesio questo però domenica 22 con restringimento della careggiata e segnaliamo che domani inizierà l'allestimento delle strutture per il tradizionale Luna Park in piazza primo maggio null'altro da segnalare grazie al vice ispettore Sandro Favotto per le preziose informazioni al di là del traffico come diciamo sempre ci sono alcune notizie di servizio che è importante conoscere prima di mettersi alla guida per raggiungere l'ufficio portare i bambini a scuola o comunque per muoversi in auto nella nostra città ed intorno adesso torniamo su Udinese Juventus perché abbiamo letto dell'intervista di Pepe leggiamo anche le dichiarazioni di Allegri che avverte l'Udinese con una minaccia e dice ora noi vinciamo cinque di fila il tecnico della Juve guarda le avversarie prima della prossima sosta problemi intanto ad una caviglia per me di Benassia che rischia risaltare la sfida da ex allo stadio Friuli andiamo sopra a vedere invece una polemica scatenata da Bruno Fernandes dopo la partita di Champions League a Torino che il suo sporting di Lisbona ha perso 2 a 1 con un gol di Manzucic segnato proprio all'ultimo respiro del match quasi nel finale ma c'è stato un fallo sul gol di Manzucic dice Bruno Fernandes abbiamo avuto sfortuna sul gol di Manzucic c'è stato un blocco falloso su di me che l'arbitro non ha visto e che ha permesso ad Aglas Costa di crossare l'ultima spruzzata di veleno sulla Juventus arriva dallo spogliatoio di questa gara e le dichiarazioni sono dell'ex udinese Bruno Fernandes virgolettato riferito poi da quotidiano portoghese a bola interessato al match di ritorno al prossimo round tra due settimane che dice giocheremo faccia a faccia con qualsiasi avversario non abbiamo problemi di fronte a nessuna squadra perché siamo anche noi una grande squadra questa la chiosa di Bruno Fernandes giocatore che ha fatto molto bene ricordiamola anche qui all'Udinese prima di essere ceduto alla Sampdoria dove ha confermato le sue qualità e meritarsi poi il passaggio allo sport in Lisbono e il ritorno in patria con possibilità di giocare anche in Champions League cambiamo giornale e andiamo a a vedere il gazzettino gazzettino che apre nella pagina di sport con la notizia di Berami che vuol prendersi la sfida con la Juventus e quindi non vuol perderla questa partita stessa apertura del messaggero e cioè il possibile recupero di Valonna Berami lo svizzero ieri in campo nel test con la primavera e sicuramente un sollievo per Del Nedi che l'ha rimpianto nella partita di Firenze il centrocampista in allenamento ha agito da mediano pronto a dare man forte alla difesa notizie di natura statistica troviamo qui a destra le zebrette vincenti in casa sulle zebre soltanto cinque volte speriamo di poter arrivare anche alla sesta e poi come abbiamo detto leggendo anche prima il messaggero ma vi abbiamo già commentato quello che stiamo leggendo oggi sui giornali ieri nel nostro pomeriggio calcio che ha seguito il match amichevole tra la prima squadra e la primavera Adenan è favorito per la maglia da titolare sulla destra al momento che ieri Widmer ha lavorato a parte e ovviamente Larsen non sarà ancora recuperabile quindi qualche problema sulla fascia destra che il tecnico potrebbe risolvere con l'utilizzo di Adenan sulla fascia destra troppi impegni di champions allegri studia il turnover qui vediamo l'icksteiner inserito nella lista UEFA non inserito nella lista UEFA quindi domenica potrebbe giocare al posto di Sturaro per quanto riguarda il resto si prevede un turno di riposo a Buffon con Scesni che potrebbe giocare dal primo minuto cosa che è già avvenuta in questo campionato altre volte mentre in difesa potrebbe esserci una rivisitazione di quello che è il blocco base con delle possibili variazioni di uomini da parte di Max Allegri e dunque possiamo a questo punto passare anche al Pordenone che ha avuto un intermezzo di Coppa Italia in settimana ieri abbiamo trasmesso la partita sia alle 17 che alle 23 contro il Vicenza un Pordenone che ha perso 2 a 1 la Coppa Italia di C ed è atteso adesso per quanto riguarda la Coppa Italia dalla sfida contro il Cagliari nella Team Cup la Coppa Italia cosiddetta dei grandi ma soprattutto il Pordenone concentrato sul campionato affronterà il Mestre un'altra formazione veneta al Bottecchia Pordenone che riduce da tre pareggi consecutivi ha necessità di tornare a vincere la formazione di Colucci per consolidare la sua leadership in classifica e confermarsi squadra sicuramente attrezzata e in grado di ottenere la promozione in Serie B. Qui vediamo una immagine della partita tra Pordenone e Ravenna l'ultima che ha visto il Pordenone vincere il match per i Neroverdi sarà un turno da sfruttare oggi scontro diretto Padova Bassano mentre la San Benedettese sarà di riposo ricordiamo che il girone del Pordenone ha una squadra in più domenica sera i Neroverdi potrebbero ritrovarsi di nuovo primi in solitario dunque assolutamente un turno da sfruttare e poi andiamo a leggere dei giocatori giovani che arrivano ad Armanforte al gruppo di Colucci che li impiega negli allenamenti quotidiani e se possibile da anche spazio come è successo per esempio a Luca Toffolini classe 99 un ragazzo dotato di grande fisicità leggiamo qui grande generosità ha partecipato alla seconda fase del ritiro ed anche esordito in Coppa Italia non sono rincalzi scrive il gazzettino e lo hanno fatto vedere contro il Vicenza alcuni erano titolari altri sono entrati a partita in corso oltre a Luca Toffolini citiamo anche Eric Battilana un centrocampista classe 2000 ha cresciuto proprio nel Pordenone Niccolò Nardini classe 2001 finito già nel medino della Fiorentina e titolare dell'Under 17 di serie C e per quanto riguarda gli altri ancora Alessandro Peressutti difensore classe 2000 vediamo qui anche in foto proprio Peressutti e Massimo Facchinutti classe 2000 terzino con buona corsa e un buon sinistro ed infine ce ne sono anche altri come Mattia Pramparo classe 2000 difensore gli attaccanti Tommaso del Fabbro e Luca Beltrame anche loro classe 2000 e poi nel giro della prima squadra c'è anche il portiere Under 17 Marco Meneghetti 2001 anche lui nel giro della rappresentativa Under 17 di serie C dunque sicuramente una serie di ragazzi che possono rappresentare il futuro del Pordenone. Il sacilese Zironelli prepara lo sgambetto a Colucci Zironelli che ha giocato con il Vicenza ha legato la sua carriera la parte migliore della sua carriera con il Vicenza adesso allena ed è l'allenatore del mestre dalla nostra parte dice avremo la spinta di 200 tifosissimi qui il tecnico del mestre elogia i neroverdi ancora imbattuti ma appunto a far bene anche al Bottecchia che finora è inviolato e dunque questa è la situazione del Pordenone fotografata dal gazzettino ma abbiamo la possibilità di leggere anche la pagina dedicata ai ramarri da parte del messaggero Veneto nell'edizione proprio di Pordenone parla Pavanel doppio ex partita divertente e da tripla l'attuale allenatore dell'Arezzo dell'Arezzo fa i complimenti a Colucci ma mette in guardia dalla squadra di Zironelli e il messaggero ricorda anche che è stato il primo allenatore dell'era Lovisa allenatore classe 67 Massimo Pavanel nativo di Portogruaro residente a Trieste allena in serie C l'Arezzo per lui si tratta di una prima esperienza tra i professionisti dopo aver guidato per appena un mese la triestina tra lui agosto 2011 aver battuto anche Zdenek Zeman cinque anni per lui all'Ellas Verona tra lieve e primavera e poi è arrivato questo questa chance è arrivata questa chance contro con l'Arezzo di allenare in serie C leggiamo della situazione in casa ramarri per quanto riguarda disponibili e indisponibili in questo caso perché parliamo di Agostini e Berrettoni che sono in dubbio di Agostini ha accusato un trauma distorsivo alla caviglia destra Berrettoni che ricordiamo è rientrato ma dopo un lungo periodo di inattività e fisiologico che possa accusare qualche problemino poi si sistemerà tutto e rimangono in dubbio comunque per la sfida di domani di domenica chiedo scusa contro il mestre e poi c'è una notizia curiosa che ci fa un po' riflettere anche sui social perché chi di voi è incappato in una problematica con Facebook sa quanto sia difficile far rimuovere un commento far rimuovere una pagina che offende che magari offende anche direttamente noi che frequentiamo Facebook e invece poi succede che per un account regolare dei commenti regolari Facebook cancelli gli utenti blocchi e quindi faccia censura perché perché evidentemente si affida a un sistema automatico che va a riconoscere delle parole e in questo caso c'è un giocatore che come sapete si chiama Finocchio gioca nel Renate è un ex giocatore del Pordenone Facebook sospende una serie di account in cui si nominava il giocatore Finocchio è chiaro che c'è un grosso equivoco perché si nominava questo giocatore semplicemente perché si faceva una discussione sul calcio e su questo ragazzo viene citato anche un 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 caso in cui in campo non c'entrano nulla i social network ma è successo qualche anno fa durante un incontro di campionato di primavera fra Bologna e Parma l'allenatore del Bologna dove giocava Finocchio fu squalificato e poi graziato una volta scoperto il malinteso per aver rullato Finocchio mettila fuori per favorire i corsi in campo a un giocatore che era a terra l'errore fu ovviamente scovato e l'allenatore graziato comunque una notizia curiosa che però ci deve far in qualche modo riflettere sulle enormi contraddizioni dei social in particolare di Facebook che ci mette anni se si riesce a ottenere la cancellazione di un utente che ci molesta di una pagina che riteniamo offensiva possiamo segnalare quanto vogliamo ma non sempre Facebook riesce o vuole rimuovere un determinato tipo di cose e poi invece qui per una situazione del tutto regolare normale non offensiva è arrivata la rimozione degli account il blocco degli account e poi una volta bloccati ci vuole ancora tantissimo tempo per essere riattivati. Bene siamo alle 7.56 abbiamo letto tutto per quanto riguarda l'udinese ed il Pordenone e tra un po' vi presenteremo anche l'argomento di oggi di approfondimento siamo come sempre in in esterna per parlare nell'ora successiva della nostra rassegna stampa di un argomento di attualità un approfondimento che ci permette molto spesso anche di conoscere il nostro territorio e quest'oggi siamo in esterna con Valentina Bearzi andiamo a sentire da Valentina dove si trova e di che cosa parleremo oggi a partire dalle otto in poi Valentina buongiorno no saltato il eccola qui Valentina però non abbiamo no non abbiamo l'audio e dunque ecco mi dicono di sì adesso Francesco siamo a Dardago dammi solo un cenno che riesce a sentirci correttamente ci siamo ci siamo dunque allora siamo a Dardago siamo vicini ad Aviano abbiamo appena oltrepassato il centro di Aviano e siamo arrivati fino a qua per spiegarvi che cosa succederà questa domenica il 22 di ottobre c'è una manifestazione dedicata allo zafferano forse non molti sanno che proprio e in queste zone si coltiva lo zafferano questa importante spezia grazie all'intuizione di alcuni imprenditori che hanno appunto incentivato questa coltivazione qualche anno fa e adesso è diventata una vera e propria coltivazione intensiva tanto che viene organizzata anche questa festa vi racconteremo quindi che cosa succede domenica ma andremo anche a vedere come vengono raccolti i fiori dello zafferano perché da metà ottobre circa fino a tutto novembre c'è proprio la raccolta e poi l'essicazione per produrre quello che poi veniamo a utilizzare nei nostri alimenti nei nostri pasti francesco quindi a fra poco con l'approfondimento di quest'oggi da dardago grazie grazie valentina e con questa bella immagine del campanile andiamo adesso in pubblicità e poi torneremo per iniziare a parlare di zafferano ma continuare anche con la nostra rassegna stampa abbiamo da sfogliare ancora le pagine dei quotidiani nazionali ma ancora anche all'interno di quelli locali per le notizie che arrivano anche dagli altri sporti finora ci siamo occupati soltanto di calcio ma c'è anche tanto altro da raccontare eh tra quello che troviamo oggi sulle pagine dei giornali le notizie che arrivano dal web dall'italia e dal mondo con Angela a tra poco